ragazzi fedex spedizione velocissima purtroppo però quasi scarsi 20 euro di dogana su dei componenti che costano 10 euro l'uno ma vediamo di che cosa parliamo di riabilissimo unboxing parliamo della modifica per il bms 6 plus sono questi quattro componenti per aggiungere la gestione del tappeto scaldante a bms 6 plus ne ho presi 54 per i miei bms 16 a qualcuno serve ne ho uno in più e a breve farò anche un video di come si montano sperando che tutto va bene incrociamo le dita un saluto come sempre da savio modifica per i bms servos per la gestione del tappeto scaldante sono all'incirca 3 4 componenti ci sono questi mosfet questi fusibili il connettore da mettere nei cibi sono veramente quattro componenti potevano montare direttamente si è messa purtroppo si sono persi alla fine per manco 10 10 15 euro di componenti ce ne fanno pagare purtroppo un altro e venti di dogana però questo è ero curioso di provarla anche se non sono in zone freddissime ma è più che altro per una curiosità didattica un saluto da tutti